La particolarità del mio lavoro con le aziende italiane è sempre stato fondato sulla mia volontà di realizzare progetti sempre innovativi, in particolare con MDF con la quale collaboro dal 2001, ogni mio progetto nasce da un'applicazione tecnologica innovativa. Il lavoro sui prototipi è fondamentale. Io ritengo che il progetto sia come un seme che viene posto in un terreno che può essere più o meno fertile. La fertilità di un'azienda si vede dalla relazione che ha di rendere capace di sviluppare l'idea del progetto. Il prototipo fa parte del percorso, è una parte importantissima perché ad ogni step del prototipo si fa nient'altro che verificare la qualità del progetto e la possibilità della sua realizzazione. La creatività con la capacità di fare ha per forza di cose una relazione profondissima. La fortuna nostra è che siamo italiani, nasciamo in un paese dove la creatività ci ha sempre accompagnato e la capacità di fare è il frutto di tutta una serie di momenti che nella storia hanno portato gli italiani ad avere un gusto e una capacità del fare superiore alla media. Non è un caso che molti designer arrivano in Italia per realizzare le loro idee. Questo fatto è dovuto proprio alla capacità del fare e alla volontà del fare. innovazione.